Chiudiamo con il canottaggio, è partito il conto alla rovescia per il trofeo dell'Adriatico. Abbiamo ascoltato l'ammiraglio Rudi Guastadisegni, presidente dell'Associazione Rematori della Magna Grecia. Il trofeo dell'Adriatico è ormai agli sgoccioli, la prima tappa si terrà a Taranto il 29 giugno prossimo. Parteciperà l'Associazione Rematori della Magna Grecia, una formazione tarantina, il cui presidente Rudi Guastadisegni, ammiraglio Guastadisegni, è il presidente. Allora, c'è grande attesa per questo evento, ormai alle porte. Sì, grande attesa perché è la prima volta che a Taranto si tengono queste gare del circuito dell'Adriatico. Grande attesa perché in funzione della riuscita di questo evento si deciderà se continuare anche per gli anni prossimi. Noi speriamo ovviamente che l'evento riesca il meglio possibile per poter continuare negli anni futuri a portare a Taranto tutti questi atleti e fare queste gare. Ecco, parliamo un po' ora della formazione tarantina, dunque, che consta anche di una maschile, una femminile? Una maschile? Dunque, la nostra società, che è nata da poco, ma malgrado il poco tempo che ha avuto a disposizione, è riuscita a fare cose egregie. Un equipaggio maschile con più rematori, quindi non soltanto i titolari, diciamo così, ma anche i panchinari, per usare un gergo calcistico che in questi giorni è di moda. Quindi una formazione maschile molto forte, molto preparata, una formazione femminile agguerritissima, devo dire, una formazione juniores di ragazzi e, non ultima, una formazione mista con disabili. Perché uno degli scopi della nostra associazione è, ovviamente, lo scopo principale è quello di far fare sport a giovani e meno giovani, ma c'è anche uno scopo sociale, dare la possibilità a disabili e alle loro famiglie di trascorrere un po' di tempo in serenità, facendo sport e avendo la soddisfazione di vedere che si riesce a fare qualche cosa. Consigli per l'evento? Spieghiamo un po', si parte domenica 29 giugno, alle 9 con l'accoglienza e quant'altro? Sì, alle 9 inizia l'evento con la preparazione del campo di gara, la conta degli atleti, diciamo così, la distribuzione delle barche, i sorteggi, gli accordi con la giuria e, dopodiché, ci saranno le gare, tutte le gare mattinali, gare che si svolgeranno davanti alla rotonda e andranno avanti fino a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo. Dopodiché ci sarà una pausa a pranzo per atleti, ospiti e tutti coloro che saranno presenti e le gare continueranno nel pomeriggio con le finali. Penso che verso le 17, 17 e 17.30 ci sarà l'evento finale che sarà la premiazione con qualche discorso di qualche autorità, oltre al mio, per tirare le somme di quanto fatto e per fare una previsione di quanto si potrà fare in futuro. La società Rematori della Magna Grecia è una società sportiva, è vero, ma non è soltanto sportiva, è anche un'opportunità di socializzazione per la città di Taranto. Gli atleti, ovviamente, come avete sentito, ambiscono vincere, è logico, un atleta vuole vincere per forza. Bene, questo è il nostro scopo, vincere la gara, ma non è lo scopo principale. Lo scopo principale è un altro. Quando alla fine della giornata gli avversari, vinti e vincitori, si lasceranno con un abbraccio o una stretta di mano, allora tutti noi avremo vinto. La pagina sportiva termina qui, grazie per la cortesia attenzione e arrivederci.